Regione Toscana, il Consiglio regionale. Il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Gianni, ha illustrato in aula un maxiemendamento presentato dalla Giunta per l'ultima variazione di bilancio dell'anno 2024. La proposta del Governatore e della maggioranza è stata di stanziare 25 milioni di euro da destinare a fronteggiare i danni degli eventi alluvionali dello scorso 2 novembre. Le risorse vengono riperite rimodulando i fondi europei del cosiddetto FESL, con 6 milioni di finanziamenti per le imprese a fondo perduto e 6 milioni a garanzia di interessi di prestiti e mutui. Altro intervento nel settore agricolo, che prevede due fondi per un totale di 7 milioni di euro da destinare agli alluvionati, un milione per i danni ai terreni e 6 milioni rimodulando i fondi all'agricoltura. A questi, nel bilancio di previsione 2024, si aggiungono ulteriori 6 milioni a fondo perduto per i cittadini che hanno subito danni. Si tratta di questo. Siamo in variazione di bilancio, l'ultima variazione di bilancio prima della fine dell'anno. E quindi a fronte di vari consiglieri di maggioranza, di opposizione, che mi chiedevano di intervenire convertendo risorse che avevano la loro destinazione già prevista da tempo, abbiamo fatto questo sforzo e abbiamo individuato 25 milioni che derivano alcuni dalla rimodulazione di fondi del FES, del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale e si tratta in questo caso di 6 milioni per le imprese, ovvero a fondo perduto, 6 milioni a carico di interessi o oneri su prestiti o mutui. Poi abbiamo una previsione concreta sotto questo aspetto di 7 milioni e 56 che sono specifici per i fondi relativi all'agricoltura, uno per rimediare a quelli che sono dissesti, l'altro che nascono dal Fondo di Solidarietà che quindi abbiamo spostato in questo pacchetto di misure. Vi è poi 6 milioni che non sono immediatamente nel bilancio ma che attraverso questi emendamenti al DEFRE noi richiamiamo perché possano essere messi in quello che è un bilancio già in indignere, quello di previsione 2024 che abbiamo portato l'indignatura e sono 6 milioni a fondo perduto per i cittadini. Naturalmente sono risorse che noi possiamo spendere dopo aver approvato una legge regionale in cui lavoreremo in questo mese perché noi vogliamo allargare quello che sono questi ristori ai cittadini e alle imprese non solo a quelle imprese e a quei cittadini che sono stati inseriti nell'ordinanza che mi ha nominato commissario perché in quel caso io potrei dare ristori solo a chi è stato sgomberato, a chi ha avuto l'abitazione o l'impresa inagibile, a chi ha avuto danni strutturali seri alle proprie mobili che sia impresa o che sia abitazione. In realtà spesso quando io nei numerosissimi sovralluoghi che faccio vedo la famiglia o l'impresa in difficoltà mi si dice ma io ho perso tutto, in questo semi interrato c'era tutto, la macchina e la moto sono andate alluvionate e quindi inutilizzabili. Queste tipologie nell'ordinanza in realtà non potevo avere l'ordinanza fatta dal governo. Ecco la necessità di prevedere con legge regionale poi la capacità di spendere quello che ho detto. Per noi questa variazione di bilancio è importante anche per dare un primo segnale forte, importante a chi sta soffrendo, alle imprese alluvionate, alle famiglie che hanno perso la propria casa. In questa variazione di bilancio noi decidiamo di destinare 6 milioni di euro a fondo perduto alle famiglie, 6 alle imprese, 7 milioni alle imprese agricole e facciamo accesso, io l'ho chiesto da subito, subito nei primi giorni dell'alluvione al fondo di solidarietà europeo per 50 milioni di euro. La stessa richiesta, la stessa osservazione porterò al Comitato delle Regioni della prossima settimana a Bruxelles. Noi abbiamo bisogno dell'Europa, è importante che l'Europa torni ad essere vicina ai cittadini e può farlo anche dando risposte e segnali concreti in poche settimane, in 12 settimane. D'altro canto però facciamo un appello anche al Governo che stanzi subito tutte le risorse che servono. I primi dati ci dicono che siamo nell'ordine dei 3-4 miliardi di euro di danni. Noi mettiamo subito le cifre che ho detto ma non bastano, sono davvero solo risorse per l'emergenza. Come Consiglio regionale metteremo diverse risorse che restano dall'avanzo di amministrazione per sostenere i comuni colpiti, però dobbiamo fare di più e quindi chiediamo al Governo che faccia velocemente la propria parte, che metta tutte le risorse che servono e poi l'altro appello che voglio fare è di evitare tutta la discussione rispetto al Commissario per la ricostruzione. Una variazione di bilancio che Tel Aviva ha sostenuto con convinzione, un equilibrio dei conti che è fondamentale, mette in sicurezza i conti del 2023, soprattutto mette in sicurezza i conti della sanità, nella quale bisogna anche migliorare rispetto ai livelli di erogazione dei servizi, mette in sicurezza alcune risorse importanti per quanto riguarda le amministrazioni locali e soprattutto inizia ad investire delle risorse importanti per quei territori che sono stati alluvionati. Quindi una variazione di bilancio importante, un equilibrio dei conti che dimostra ancora una volta che la battaglia d'Italia viva di tenere i conti in equilibrio della Regione Toscana si può fare senza aumentare le tasse. Il 2023 quindi si conclude con un anno che per la terza volta consecutiva porta i conti in equilibrio di bilancio, soprattutto senza chiedere nessun sacrificio a cittadini toscani. Respinte le proposte di risoluzione presentate dal gruppo della Lega collegate al DEF con ordini del giorno ed emendamenti di Lega e Fratelli d'Italia, che sono state molto critiche sull'operato della maggioranza, soprattutto indicando la scarsa collaborazione sugli emendamenti presentati e sullo stanziamento dei 25 milioni di euro, che nei fatti non ha previsto al momento atti formali da parte di Regione Toscana. Siamo abituati come consiglieri regionali, purtroppo in questa legislatura, a essere spesso presi in giro dal Presidente Gianni, ma non accettiamo che in questo caso a essere presi in giro siano i cittadini toscani, le imprese toscane, i comuni alluvionati. Anche quest'oggi è venuto in Consiglio regionale, come centrodestra avevamo presentato una serie di emendamenti alla terza variazione di bilancio di un importo circa di 10 milioni e è venuto in Consiglio regionale a dirci, voi ci chiedete 10 milioni, ecco, noi ne mettiamo sul piatto 25 milioni. Eravamo pronti e ci siamo riuniti, abbiamo chiesto anche una sospensione nel ritirare i nostri emendamenti, essendo felici, perché noi eravamo felici, del fatto che il Governatore e la Regione Toscana avesse trovato 25 milioni di euro a disposizione per famiglie, imprese e comuni alluvionati. Ci siamo riuniti, ci siamo messi a leggere gli emendamenti, abbiamo avuto anche un confronto tecnico e abbiamo scoperto che questi 25 milioni non ci sono, sono un atto collegato al documento economico, finanziario e regionale, quindi buoni intenti, un atto politico che avremmo potuto fare anche noi come opposizione, che avrebbe potuto presentare anche il Partito Democratico, ma siamo veramente arrabbiati, indignati che si continui a speculare sulla pelle dei cittadini, delle imprese e delle famiglie alluvionate. Questo non lo permetteremo, veramente per quanto mi riguarda io faccio politica da circa dieci anni e una cosa così non mi era mai mai successa. Non siamo disposti a far sì che si continui a prendere in giro nessuno. Ma vedete, quando si tratta di gestire l'ordinario si può andare in difficoltà e le critiche dell'opposizione sono molto semplici. Il tema vero è quando si tratta di gestire lo straordinario e le emergenze. Nella prima seduta utile, che era quella di oggi, nella variazione al bilancio, all'interno della quale poteva esserci una risposta concreta da parte della regione toscana, ci siamo resi conto che le uniche risposte concrete sono quelle legate ai carnevali, alle feste del grillo, alle ricorrenze di paese, al recupero degli edifici storici, alla festa di paese, alle fasce tricolori, cioè a tutto ciò che riguarda la promozione, la cultura, il territorio, la valorizzazione degli enti, magari qualche taglio del nastro alla presenza del presidente Gianni, ma non c'è un euro sul fatto più grave che è successo in questa regione negli ultimi 60 anni, nemmeno paragonabile all'alluvione in Firenze. I danni sono incalcolabili. Lo studio dell'IRPET ci dice 2 miliardi e 100, molto probabilmente i danni saranno 4 miliardi di euro, tenete conto che il paragono sull'Emilia Romagna sono 8 miliardi di euro. In quel distretto alluvionato c'è il 35% delle aziende della Toscana e il 40% del fatturato per quanto riguarda i nostri distretti industriali e c'è il 65% dell'export toscano delle nostre imprese. Cosa pensa di fare la sinistra? Di venire in consiglio regionale e di portare una mozione. Le mozioni lasciamo lì ai consiglieri di opposizione, molte volte ce le bocciano, lasciamo lì ai consiglieri circoscrizionali. Sugli atti concreti si misura la capacità di fare governo e sugli atti concreti, soprattutto quelli emergenziali, si misura la capacità di dare risposte della politica. Io penso che l'unica cosa che dovrebbero fare è rassegnare le proprie dimissioni e mandarci al voto domani mattina. Rassegnare le dimissioni della Giunta e del Governatore che vengano a prendere in giro i Toscani e le Toscane dove ci sono 8 morti e un'economia intera in crisi a presentarci una mozione. Cos'è successo? Chi è che ha portato i soldi per il Governo? È arrivato il Presidente italiano che ha portato 100 milioni per le imprese a fondo perduto e 200 milioni a tassa agevolato. È arrivato il Governo con 5 milioni di euro subito sul tavolo. Abbiamo seguito, abbiamo ascoltato le motivazioni per cui il Presidente Gianni ha detto di non aver destinato risorse concrete, aveva detto di non aver destinato risorse concrete in questa variazione di bilancio agli alluvionati, ce l'aveva spiegato in Commissione, ha dato la sua lettura ed è una lettura che non ci ha convinto. Non ci ha convinto perché spulciando e studiando il bilancio ci siamo accorti che vi erano le risorse per poter fare un fondo ed integrare i 5 milioni messi dal Governo nazionale. Quindi c'era la possibilità, c'è ancora la possibilità, perché ancora purtroppo o per fortuna questo bilancio non è stato votato, di integrare i 5 milioni messi dal Governo nazionale. Siamo consapevoli, che sarebbe stato stupido dire prendete tutti i 30 milioni del bilancio e mettiamo gli alluvionati, l'avremmo potuto fare e fare della demagogia, ma in maniera seria abbiamo studiato la modalità di farli creare un fondo parallelo a quello nazionale. Abbiamo addirittura presentato emendamenti variabili perché questo fondo può essere fatto da un minimo di un milione di euro a un massimo di 10, quindi da un quinto del fondo nazionale che già esiste al doppio del fondo nazionale che già esiste. Servivano a ristorare quelle famiglie che hanno perso tutto e che ad oggi non possono essere ristorate, perché i 5 milioni stanziati, ricordiamolo e sottolineiamolo, dal Governo nazionale alla Regione Toscana fino ad oggi, servono come primo ristoro per chi ha l'abitazione inagibile. Quindi se tu hai perso l'automobile, la moto, il garage, la taverna, la pertinenza di casa, non sei ristorato. Quindi il nostro fondo andava ad integrare il fondo nazionale per andare a dare un ristoro a chi aveva perso parte della propria abitazione, a chi aveva perso il veicolo con il quale va a lavoro la mattina. E' la terza ed ultima variazione e come ogni anno qui ci sono risorse importanti da destinare a capitoli che erano scoperti, che riguardano la cultura, che riguardano sociale, che riguardano alcuni interventi puntuali. Per quanto riguarda invece i danni all'alluvione, con gli emendamenti che il Presidente Gianni ha presentato al documento di economia e finanza, ci sono degli impegni precisi per quanto riguarda l'utilizzo di alcuni residui del FESRE, per quanto riguarda il Fondo di Sviluppo Rurale, quindi per le imprese artigiane, industriali e per quanto riguarda le imprese agricole. C'è un impegno per quanto riguarda il ristoro anche dei danni subiti dai cittadini. Tutto questo è un impegno fissato nel documento di economia e finanza appunto che troverà allocazione nel prossimo bilancio. Averlo messo ora sarebbe stato inutile perché non ci sono modalità e leggi che consentano la distribuzione e l'attribuzione. Quindi sarebbe solo stato un modo, quello richiesto dall'opposizione, per togliere risorse da dove servono e dove possono essere spese per metterle in frigorifero. Invece l'impegno dei 25 milioni c'è, è chiaro e con il bilancio troveranno anche risorse da distribuire.